Giochiamo dopo esserci fermati e sappiamo che affrontiamo subito una gara complicata come lo sono tutte. La classifica direbbe il contrario ma sarebbe un grandissimo errore guardarla e pensare di poter fare qualcosina in meno per ottenere un risultato che vogliamo ottenere. Quindi subito a rimetterci in carreggiata, a farlo con le caratteristiche che ci hanno permesso di poter riprendere un buon percorso, di poter avere una buona striscia positiva con la fame e l'entusiasmo di volerla continuare senza l'euforia che potrebbe mandarci fuori strada invece noi fuori strada dobbiamo fare di tutto per non andarci. Non è una cosa facile, ovviamente le cose facili per provare a superarle bisogna affrontarle e noi ce lo siamo detto, siamo fermati, abbiamo preparato due partite per motivi diversi, purtroppo non abbiamo potuto disputarle e giustamente non è stato fatto. Ora torniamo a giocare sapendo che gli altri avversari nostri hanno recuperato una gara, hanno un ritmo diverso, dopo essere stati fermi come noi hanno sbagliato il primo tempo perché ovviamente quando mancano i ritmi della gara bisogna fare le gare per ritrovarli e noi torniamo a giocare dopo diverso tempo. Non deve assolutamente essere né un'attenuante né una scusa perché sappiamo che dobbiamo fare il massimo perché vogliamo ottenere il massimo da questa partita ma dobbiamo essere consapevoli della difficoltà della gara perché tutte le partite di Serie B e ogni giornata ce lo dimostra, nascondono dietro l'angolo le sorprese e noi dobbiamo essere pronti a non farci sorprendere. La situazione è infortunati, abbiamo fuori Salzano e Economu, credo Salzano fino a fine stagione e Economu almeno fino alla sosta, anche Berardi fuori, almeno fino alla prossima sosta che arriverà e per il resto gli altri siamo tutti a disposizione. Non ci siamo allenati bene, siamo allenati forte e quando ti alleni forte ovviamente può uscire anche qualche fastidio che qualche giocatore ha avuto quindi vorrò mettere in campo i giocatori che saranno al massimo per poter disputare questa partita per noi molto importante. A me non piace tanto parlare degli altri perché poi alla fine potremmo anche essere banali perché per me è così, bisogna rispettare tutti gli avversari al di là delle classifiche che hanno perché deve essere così, perché quando pensi che un avversario può farti meno male è il momento giusto in cui vieni punito. E noi non dobbiamo assolutamente pensare questo mai perché questo è un campionato che va affrontato sempre col piede schiacciato sull'acceleratore, va affrontato sempre con le caratteristiche che poi determinano i risultati, che sono quelle che sono la base di ogni squadra. E noi vogliamo ripartire con quelle caratteristiche sapendo che l'avversario viene da quattro pareggi che poco tempo fa ha vinto su un campo difficilissimo che è quello di Cremona facendo tre gol, che nell'ultimo periodo non ha preso tanti gol, che ha una classifica difficile ma che sicuramente ha le qualità per fare buone partite come ha già fatto. Noi questo lo dobbiamo sapere ogni partita, dobbiamo essere consapevoli che abbiamo tutte le qualità per poter fare una grandissima partita e vogliamo farla. Noi abbiamo delle partite che si sono affollate un pochino, quindi ne disputeremo qualcuna in più degli avversari. Potrebbe sembrare una difficoltà, però a me piace la difficoltà sempre riuscire a trasformarle in opportunità e per noi questa è un'opportunità di dimostrare a noi stessi che abbiamo una rosa all'altezza di questo campionato. Sono straconvinto che ci sarà bisogno delle qualità di tutti i giocatori per poter continuare a fare quello che stiamo facendo e mi auguro che in questo blocco di partite che arriveranno saremo in grado di continuare a fare quello che stiamo facendo con l'equilibrio che ci ha contraddistinto, con la voglia e la fame di raggiungere un qualcosa di bello in queste giornate perché sicuramente tra un po' si delineerà la classifica, saranno molto più chiari quelli che possono essere i nostri obiettivi e quelli dei nostri avversari e sarà il momento che si inizierà a vedere il traguardo in fondo alla strada e capire quali sono le potenzialità di questa squadra e dove veramente questa squadra avrà l'opportunità di arrivare. Non dobbiamo avere ansia, dobbiamo avere la sensazione di vivere ogni partita come se fosse l'ultima per provare ad ottenere il massimo e questo è quello che vogliamo cominciare a fare dalla partita di domani, conoscendo le difficoltà che abbiamo di fronte ma sapendo anche le qualità che ci contraddistinguono. Credo che si siano spese già tantissime parole per una tragedia enorme che è capitata e quindi io oggi mi sento solo di mandare un grande abbraccio alla famiglia di Davide perché in questi giorni abbiamo scoperto un ragazzo con enormi qualità che ha lasciato un grandissimo vuoto e io in questo momento mi sento solo di dare un abbraccio ai cari e ai familiari che sicuramente staranno soffrendo e continueranno a soffrire per tantissimo tempo.